Avvocato Lugio Greco, sabato prossimo a Gela arriverà il ministro degli interni Angelino Alfano. Perché proprio il ministro degli interni a Gela? Ma voglio partire da uno slogan dicendo che non c'è sviluppo, non c'è lavoro, non c'è occupazione se non c'è legalità. E la visita del ministro Angelino Alfano a Gela, su mia espressa richiesta e del gruppo di lavoro di tantissimi amici di Gela che hanno aderito al nuovo centrodestra e la conferma della grandissima attenzione intanto del ministro degli interni ma poi anche del governo nazionale che guarda con grandissima attenzione a questa città e a questo territorio. Però politicamente parlando è chiaro che la visita di Angelino Alfano a Gela vorrà significare il lasciapassare per un nuovo centrodestra in città. Ma sicuramente rappresenta una grande attenzione e concretamente volere lanciare alla grande, dico io, il nuovo centrodestra a Gela e in tutto il sud della provincia di Caltanissetta. Rappresenta un momento importante perché Angelino Alfano oggi con questa scelta coraggiosa e di grande responsabilità sta garantendo la governabilità in Italia. È un vero e proprio pilastro a sostegno della governabilità perché l'Italia oggi tutto può permettersi tranne che andare a votare anticipatamente in un momento così difficile, così critico e così grave perché la vera emergenza nel nostro paese è rappresentata dall'emergenza lavoro. E proprio in questa direzione sono notizie di questi giorni le misure e i provvedimenti che sono stati emessi dal governo che in questo momento sta provvedendo a garantire tranquillità e serenità agli italiani che vanno nella direzione del sostegno e dell'aiuto delle famiglie e delle imprese. Dunque la conferma oggi che farà parte del nuovo centrodestra? Lo confermo e dico di più, è una conferma convinta, decisa, senza tentennamenti perché ripeto la scelta di Angelino Alfano è stata una scelta di coraggio e soprattutto di grande, di grandissima responsabilità garantendo governabilità all'Italia e quindi per dare aiuto, sostegno e sicurezza alle famiglie, agli italiani, alle imprese, agli artigiani perché tutto il ripeto in questo momento può permettersi l'Italia tranne che sbandamenti come per esempio quando si inizia a parlare di elezioni anticipate.